Ma quest'estate per un bichini per una foto in bichini è stata molto criticata allora lei ha risposto così un po' no ha scritto che differenza c'è con quei colleghi e colleghe che in questi giorni si prestano finte paparazzate in costume se non che io non sono ipocrita allora mi dice a chi pensava lei non è un'allusiva può fare i nomi a chi pensava perché si riferiva delle persone te lo faccio ma te lo faccio anche perché erano tantissimi e tantissime allora me ne dica qualcuno non faccia un nome solo chi si prestava queste state a finte paparazzate ma non glielo farò era una risposta a quei giornalisti che avevano criticato ho detto ma non preferite un politico che si chiama in epocrita che cos'è questa cosa di questi che vanno in vacanza si fanno fotografare il finto paparazzato lo sappiamo tutti però avevano la piega avevano il bichini messo giusto dai su lei anche diciamo parlato di un'operazione di un intervento chirurgico che ha fatto e si è regalata una seconda no giusto e ha detto una deliziosa seconda piuttosto che una terza eccetera io voglio chiederle se qualcuno l'aveva fatto una domanda oppure si è sentita lei di fare questa è chiaro che mi hanno fatto una domanda si può dire tutto qua no anche i programmi ero un giorno da pecora pur essendo una solo una seconda io partivo da una zerra zero barra prima per cui chiaramente si è notato e per cui lui mi ha chiesto e io l'ho detto cioè semplicemente non vedo perché negarlo anche perché il motivo guardia è molto nobile cioè io avevo una zero barra prima che adoravo cioè io proprio adoro l'assenza di forme lo trovo davvero davvero di classe sto facendo un complimento anche a lei la verità lo penso lo penso Clarissa quando è nata e poi io allattato questa zero barra uno l'ha fatta diventare una quinta lei magari non mi crederà poi le potrò mostrare delle foto una quinta lei capisce che quando è tornata la quinta da zero barra uno insomma quindi io mi sono sentita di rifarlo per questo motivo come credo molte donne allattano che un momento secondo me meraviglioso però poi insomma si vogliono anche rivedere come erano